Torniamo con il nero in onda della politica, vi garantisco che siamo alti, nella realtà vi garantisco che siamo alti, torniamo con il nero in onda della politica perché stasera si tratta di commentare il fatto politico del giorno e c'è la presentazione ufficiale della candidatura della Lega Nord alle elezioni provinciali di Cosenza, arriva la Lega, questo è il titolo intorno al quale graviterà la nostra discussione ma ovviamente ci sono tante altre postille che noi andremo ad esplorare, arriva la Lega vuol dire che il carroccio schiera il suo simbolo in Calabria e nella specie per le elezioni provinciali di Cosenza. La notizia è stata accolta con molta perplessità da qualcuno, altri l'hanno salutata con entusiasmo, vedda dire, non capiamo che cosa ne sarà del Movimento per le Autonomie anche se qualcuno sospetta che si possa dar luogo addirittura ad una alleanza perché è una strana sorta di parallelismo, non parlate, si sente tutto quello che dite da casa, avete i microfoni accesi, lo dico ai miei ospiti. Il fatto è comunque che ci troviamo di fronte ad un inedito, per la prima volta c'è in Calabria una novità per cui avremo di che dibattere in queste sere. hanno accolto il nostro invito Franco Cimino che è colto estimatore della letteratura, dell'arte e del teatro ma anche attento osservatore di ciò che si muove nel lagone politico e non solo calabrese e poi un sindaco che si chiama Albino Guagliardi. Albino Guagliardi è un disturbatore, Gagliardi, non mi confondo con Damiano, è un disturbatore, uno che spesso ama polemizzare con la UDC, la UDC è il delirio ossessivo di Albino Gagliardi e che però ha fondato un movimento che si chiama Rinascita, ne parleremo tra, vogliamo ricordare il tuo comune di appartenenza? Comune di Saracena. Saracena è importante, in questo momento da Saracena ci saranno seguendo in tanti. A questo movimento, pensate, pensate, udite, udite, ha aderito un signore che si chiama Alfredo Iuliano, ecco adesso lo vedete inquadrato dal nostro steticum, Alfredo Iuliano deve le sue fortune e i suoi destini alla sua attività di opinionista corrosivo il più delle volte, molto pericoloso, molto più abrasivo di perfidia, lo ricorderete nelle trasmissioni di Rai 2 con Simona Ventura e in più c'è da dire, ma lo diciamo solo per supplemento di informazione, che è il padre di Marco Iuliano, leggendario calciatore della Juventus. Mi è rovinato, adesso mi è rovinato, mi è rovinato l'anonimato, per cui ho delle qualità intrinseche, non posso essere confuso con un ex calciatore. Ci mancherebbe altro, lui è il padre di un giocatore da Juventus, però dice io delle qualità. Il famoso fallo. In dato possiamo dire che questa telespazio è una grandissima emittente, non solo calabrese, addirittura un emittente nazionale, Wanda, la migliore giornalista che in politica batte sempre sugli alti valori della interpretazione dell'esegesi, quindi è un valore aggiunto a questa grande televisione, io sono contento di incontrarti, abbiamo lavorato insieme per tanti anni, anche se qualche editore ha cercato di impedirci di costruire la più grande osmosi televisiva, Giuliano Grippo, insomma, un surplus di linguaggio, di ecatombe linguistica, di arzigogolamento dal punto di vista politico, sociolinguistico, linguistico, insomma c'è di tutto. Arzigogolamento è carino, arzigogolamento è vero, Giuliano, qualche editore non ce l'ha fatta a sopportarci insieme, mentre torna a trovarci con nostro sommo gaudio chi? Gianluca Persico che è sindacalista dell'UGL, cosa c'è che non va? Se mi fate segno non capisco cosa c'è che non va? Qualcuno deve sostituire il microfono? La macchina. No, e cosa dobbiamo fare? Gianluca Persico deve fare qualcos'altro, prego, prego. Allora, attenzione, 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 non ci togliete il sole. Allora, diciamo, Gianluca Persico che è un sindacalista dell'UGL ci raggiungerà soltanto tra poco. Allora, partiamo dal tema del giorno. Franco Cimini, arriva la Lega, arriva la Lega in Calabria con una conferenza stampa, scendono i parlamentari per dirci che c'è necessità di una linfa propulsiva e di un movimento, di un partito che ha costruito le sue fortune in un'altra area. Che cosa accadrà in quest'area? È una contraddizione, non è contraddizione, è una botta di vita? Che cos'è, Franco? Secondo me potrebbe essere una buona provocazione che la Lega possa allargare i suoi consensi in quanto Lega nel Nord al Sud, in particolare in Calabria, lo considero una cosa proprio quasi impossibile. Ma per noi può essere una utile provocazione. Se la Lega scende, qui è perché sa che in Calabria non c'è la politica e non c'è una buona rappresentanza della politica. Quindi noi dobbiamo prendere spunto da questo evento per interrogarci su quello che in Calabria la classe politica sta facendo, i partiti politici stanno facendo e soprattutto in che modo riescono a difendere la nostra regione. Il problema nostro è quello di non aver mai avuto una cultura leghista intesa come legame al territorio, ai temi della Calabria, alla battaglia per la sua autonomia, per il suo affrancamento dai poteri che sono sempre stati forti contro di noi e che hanno usato la Calabria soltanto come terra per realizzare politiche antimeridionaliste oppure per piazzare classe dirigente che altrove non veniva ad essere collocata. Quindi io questa presenza, questa discesa della Lega la vedo come una buona provocazione, ma mi domando se saremo in grado di coglierla, questa provocazione, di saperla trasformare in un'iniziativa davvero forte, capace di dare alla Calabria quell'autonomia politica che da tempo attende. Bene, Giuliano puoi chiedere la parola quando vuole anche disturbare mentre sentiamo il sindaco di Saraceno, Albino Guagliardi che nel frattempo fonda Rinascita, Gagliardi eh, non ho detto Guagliardi. Allora, ce l'hai sempre con l'Udc? No, no, ci mancherà beh altro. Perché fai Rinascita? Innanzitutto io non ho fondato questo movimento. Questo movimento è nato per iniziative di alcune figure illustre della città di Rente che in vista delle elezioni amministrative a Rente hanno costituito questo... Antonello, la rivoluzione degli Oresti, l'Apocato Morcavato... Ah, ho capito. Hanno costituito un'associazione. In un momento televisivo, appunto, di incontro tra me e alcuni rappresentanti è nata una sintonia di contenuti sull'attuale fase politica che attraversa l'Italia e la Calabria in modo particolare. Lo diceva anche l'amico Cimino prima. La crisi dei partiti, la crisi della politica. Allora, questo progetto, anche dal nome Rinascita, significa creare le condizioni per la rinascita dell'impegno politico fondato, così come vuole la tradizione, fondata sul servizio in vista del bene comune. È un'espressione che tutti quanti declamiamo, dicono tutti così. Salvo a verificare nei fatti. E nei fatti c'è oggi una politica regionale che viene sviluppata da una classe politica che non obbedisce a quelli che sono i bisogni della realtà regionale, ma obbedisce a dei criteri di appartenenza a una oligarchia nazionale che utilizza le periferie regionali soltanto come serbatoie di voti, come si diceva prima. Allora, noi qui vogliamo lanciare un grido su una duplice direzione, una di contenuti e una di schieramento. E diciamo che se la politica nobile ha il compito di governare un territorio sulla base di quelle che sono le proprie caratteristiche e quindi le proprie aspirazioni, la prima regola è che bisogna ridare, imporre le condizioni perché nasce una classe dirigente che viene legittimata dal basso. Cioè una classe dirigente che deve essere eletta democraticamente dalle popolazioni che vivono su quel territorio. Sul territorio, perfetto, abbiamo capito. Giuliano insomma, voglio capire che c'entra Giuliano con rinascita perché è una cosa carina, vai. Artiglieria pesante. Io rinasco sempre dalle ceneri, no? Come l'araba fenice, quindi dovunque c'è un Alfredo Giuliano pronto a smentire un gruppo, un'idea o una rinascita ma a farne parte nello stesso tempo. Lo sai cosa fa un leghista che si getta dall'ultimo piano e finisce sfracellato a terra? Lo sai cosa fa? No. Fa buono. Fa buono? Certo. Fa buono, è certo. Questa era la mia idea della Lega. Io sono un secezionista, quindi uno che si affrancherebbe tranquillamente da tutto il resto dell'Italia per un'autonomia prettamente carabrese. Noi i leghisti li abbiamo accoppati, i fratelli Bandier, abbiamo accoppato Joachino Miurà che veniva d'Oltralpa, insomma siamo un movimento autonomistico che ha perso il background tipicamente carabrese, anche perché noi non abbiamo dei politici, non è vero che si è in crisi un sistema politico, non esistono i politici. Se io disse...